Tutti devono prontamente sapere chi è il Papa. Questa non è vanità, è necessità. Sir John è una persona magnifica. Ma la sua santità è decisamente più pericolosa. Sono indolente. Sono presuntuoso. Sono irresponsabile. Sono vanitoso. Ha terminato, Santo Padre. Perché non è abbastanza. Esiste una possibilità che Pio XIII si possa svegliare. È ancora vivo, anche se non lo sa. Non ha importanza. Ora sono io il Papa. Io lo so. È ancora vivo, il Papa. È ancora vivo. È ancora vivo. È ancora vivo. È ancora vivo.